Salve a tutti ragazzi, oggi vi farò vedere come riesco a guadagnare oltre 100.000 euro al mese con il training sportivo Vediamo subito l'agenda, cosa andremo a vedere in questo video Andremo a vedere il conto Betfair e quindi la certificazione dei profitti Come ho fatto a generare questi profitti e inoltre ci sarà una citazione finale Questo è il mio account Betfair, come potete vedere negli ultimi 7 giorni ho fatto 25.000 euro 380 E questi sicuramente sono, penso che siano dei numeri che in Italia non fa nessuno sul .it Io sono il miglior trader del mondo, il miglior trader d'Italia assolutamente Questo è un dito, ovviamente, solamente seguendomi potrete fare questi risultati Adesso andiamo a vedere il mio profitto nell'arco dell'ultimo mese Andiamo a vedere Nell'ultimo mese ho guadagnato 101.032 euro al speech Il mio ultimo training è stato su Fonier a Duara, sono andato in punta Ho guadagnato 1.000 euro, uno stake 1.000 euro e ho guadagnato il 660 Ovviamente questa è solo una ristretta cerchia di trader può fare questi risultati Io penso di essere il primo in Italia a fare questi numeri Ma come diavolo ho fatto a fare questi numeri così pazzeschi? Come ho fatto? Sono numeri incredibili, è impossibile fare questi numeri Volete che ve lo svelo? Beh, allora seguitemi fino alla fine K, niente, niente, kappa Questo sistema di segnare le carte l'hanno inventato a Las Vegas nel 36 Lo conoscono tutti, solo questi polli ci potevano cascare Bud Spencer lo chiamavano bulldozer Ecco come ho fatto Basta utilizzare Chrome Dev Tool con il tasto F12 per configurare gli importi modificando l'HTML della pagina E poi basta avere un software come Active Presenter per tagliare e montare i video In modo da rendere fluido tutto il video Quindi quando si cambiano gli importi da settimanale a mensile eccetera Quindi bisogna... ma è molto molto semplice Ovviamente qua partite da 7 giorni per rendere la cosa più plausibile E poi che cosa fate? Basta o fare cliccare su ispezione, clic destro del mouse ispezione Oppure cliccate su F12 della tastiera E vi si apre il Dev Tool, il Debugger Tool di Chrome Potete utilizzare anche Firefox La cosa è analoga Poi cliccate qui Vedete selezionare l'elemento della pagina per ispezionarlo Ok andate qua, cliccate qui Qui vedete avete l'importo Quindi qui ad esempio volete guadagnare 25.000 euro come ho fatto io Vedete qua 25.000 euro Dovete stare attentissimi però alle virgole e ai punti 25.000 euro 34 per renderlo più credibile agli occhi dei neofiti Faccio così Ok vedete adesso guadagnato in una settimana Vedete che grande trader che sono Guadagniamo 25.000 euro a 34 Poi per renderlo ancora più credibile Potreste modificare Potreste visualizzare l'ultimo trade E magari mettere qua Non so Un 1000 Mettiamo un 1000 Quindi qui sempre attenzione Vedete Qui seleziono Ci metto 1000 Bisogna stare attentissimi Altrimenti ci sono i lupi da tastiera Che dopo dicono che sono tutto falso Ok ovviamente qua vincita dovete mettere 660 Perché per la porta delle proporzioni 660 Ok vedete adesso ho fatto 1000 euro sull'ultimo trade Quindi è più plausibile Ho fatto 25.000 euro a settimana Io sono il più grande trader nel mondo E dopo praticamente Con Active Presenter O un altro editing video Fate praticamente la stessa cosa Cioè andate su Fate vedere che andate su 30 giorni Fate la stessa cosa Ovviamente Tagliate i pezzi In cui diciamo Fate questo giochino Con il developer tool E praticamente questa è la strategia Che ho utilizzato io Per Per mostrarvi Come ho guadagnato Con Betfair Oltre 101.000 euro In un solo mese Ovviamente se volete Rendere più plausibile la cosa Dovete inserire bene Le virgole In porti Altrimenti qualcuno potrebbe sgamarvi E questo è tutto Ora siete pronti a vendere corsi Coaching Abbonamenti su YouTube Ah c'è anche un disclaimer Ogni riferimento a persone esistenti O a fatti I rammenti accaduti È puramente casuale O forse no Vi lascio con questa frase Due cose riempiono L'animo di ammirazione e venerazione Sempre nuova e crescente Quanto più spesso E più a lungo La riflessione si occupa di esse Il cielo stellato sopra di me E la legge morale in me Immanuel Kant E la legge morale in me